Presentiamo il caso di una signora di 72 anni con una insufficienza venosa cronica in classe 6 CEAP. Al momento dell'intervento l'ulcera era già chiusa con il solo trattamento elasto compressivo. Lo scopo di questo videoclip è dimostrare l'efficacia della chirurgia emodinamica conservativa in un caso a questo livello di gravità. La valvola terminale della crossa safeno femorale è incontinente e la valvola del passaggio iliaco femorale è assente. Il diametro minimo della safena alla coscia è di 9 mm. Il rinconfiamento visibile alla coscia è un gozzo dell'asse safenico e non una collaterale. Sotto al ginocchio dall'asse safenico origina una collaterale che si dirige verso il polpaccio. Al di sotto di questa collaterale dalla safena origina una grossa perforante che presenta ai test dinamici un flusso diretto verso le vene profonde durante la fase di rilasciamento muscolare. Al di sotto di questa perforante l'asse safenico è ancora incontinente ma si riduce di calibro. La funzione di rientro di questa perforante viene testata comprimendo la safena al di sotto di essa e verificando la persistenza del flusso nell'asse safenico con un test dinamico. Il flusso del retrogado safenico ottenuto con questo test conferma la funzione di rientro della perforante. Comprimi? La strategia sciva in questo caso prevede quindi la interruzione della cross safeno femorale con conservazione delle collaterali e la interruzione della safena al di sotto della perforante. Nessun vendaggio o calza elastica vengono applicati dopo l'intervento. Già una settimana dopo l'intervento è ben visibile un miglioramento. L'analisi ecocolordoppler mostra una riduzione del 50% del calibro dell'asse safenico e la persistenza di un flusso del retrogado safenico che adesso non è più patologico. Nel controllo successivo a 3 e 9 mesi si documenta un miglioramento nettissimo della ipodermite e della pigmentazione con grande soddisfazione della paziente e anche dell'operatore. Grazie a tutti.